Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Ecco i titoli. Parleremo di sanità e implementare l'offerta dei servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario regionale, una mozione proposta dalla Commissione Sanità e votata all'unanimità. È stato firmato anche un protocollo di intesa per regolare gli accessi agli istituti penitenziari e le azioni dei diversi garanti dei detenuti e tutelare i diritti dei detenuti stessi. E poi dal Consiglio il bilancio preventivo nel parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che è di proprietà della Regione Toscana. E allora all'unanimità il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità che impegna la Giunta a implementare l'offerta dei servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario regionale, anche attraverso specifici progetti sperimentali. In particolare dovrà essere valutata la possibilità di attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare meglio la loro fragilità emotiva causata dal Covid-19. La Giunta quindi dovrà attivarsi anche presso il Parlamento e il Governo per istituire quanto prima un servizio di psicologia nelle cure primarie. Siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione. In particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid e come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo. Insomma, tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora, siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia, c'è una proposta dell'ordine dei psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la regione. L'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi, ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti, da parte del servizio sanitario a livello locale è importante. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, lo dovrà fare le case della salute, cioè il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento, non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Io monitorò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare. Serve un servizio aggiuntivo, deve essere pubblico, può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati, c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora, che questa dimensione diventa una questione di carattere sanitario. È inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi dopo un anno, ormai è un anno di chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici e questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema, perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio, che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. Stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico, perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del pre-sviluppo, l'età della pre-adolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, le capacità, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità. Ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico. E quindi benvenga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in eredità questa pandemia. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio personale e quel percorso lì mi ha aiutato. Perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure, perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo. Perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima. E vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. Lasciamo un attimo da parte il Consiglio regionale e parliamo del disagio nel carcere in Toscana che è aumentato a causa della pandemia. A dirlo è il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Giuseppe Fanfani, che è intervenuto in Commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni e nella sua audizione Fanfani, ha fatto il punto sulle attività svolte dal suo ufficio e sulla situazione pandemica negli istituti penitenziari. Facendo un passo indietro, il 4 marzo è stato presentato il protocollo d'intesa che per due anni regolerà l'accesso agli istituti penitenziari, la verifica, l'attività, le azioni. Dei diversi garanti dei detenuti e delle amministrazioni penitenziari. L'intesa punta a incrementare la tutela dei diritti dei detenuti, il miglioramento degli standard di qualità della vita e il rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Toscana in piena sintonia con l'obiettivo di reinserimento sociale. Il protocollo prevede anche la collaborazione tra il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e per l'Umbria, i garanti comunali e regionali. Io ho deciso subito di aprire la porta del Consiglio regionale per la firma di questo protocollo perché non appena insediato ho detto che vorrei che questo luogo, il Consiglio regionale, fosse il luogo per dare voce a chi ha meno voce. I detenuti ne hanno davvero poca. Vorrei che questo rapporto crescesse sempre di più per fare in modo che ci fosse ancora di più un processo di reinserimento da parte dei detenuti nella vita normale, non appena termina la loro esperienza carceraria. Io penso che un paese, una democrazia, si misuri sul livello della qualità delle sue carceri. Il carcere è un luogo di sofferenza in relazione al quale tutti gli operatori e tutte le figure istituzionali che sono chiamate a confrontarsi con essa devono avere una particolare attenzione. Abbiamo cercato di mettere assieme al provveditorato tutti gli aspetti particolarmente delicati di questa situazione e li abbiamo tradotti in un protocollo di intesa che fa sì che tutte le garanzie costituzionali per i detenuti che vanno dalla salute all'istruzione e quant'altro noto vengano correttamente attuate. La collaborazione tra enti è fondamentale. Essa fa parte di un dovere di leale contribuzione a realizzare insieme quelle che sono le garanzie previste dalla Costituzione per i detenuti. Voi tenete presente che quando un detenuto entra in carcere ha bisogno di tutto perché è sostanzialmente rimesso a quelle che sono le attività esterne. Ha bisogno di garanzie sulla salute, sul vitto, sugli spazi esistenziali che non sono soltanto quelli fisici, all'istruzione e via via. Abbiamo cercato di creare le condizioni perché attraverso un colloquio continuo e fattivo queste garanzie siano realizzate. Condividere delle regole, condividere soprattutto delle forme di collaborazione il più immediato possibile per abbattere anche la quantità di ostacoli burocratici che a volte ci possono essere nelle attività quotidiane. Facilitare la comunicazione con gli istituti, facilitare lo scambio di informazioni fra di noi. Cosa che è particolarmente importante in questa fase del mondo penitenziario nel Paese. Veniamo da un anno difficilissimo, abbiamo la necessità tutti di mettere fuori la testa e di riprendere una serie di collegamenti, di azioni buone all'interno degli istituti. Allora un grande patto con i garanti del territorio è fondamentale proprio per incrementare la presenza del territorio all'interno degli istituti. E sempre in Consiglio regionale c'è stata l'audizione del Presidente del Parco Migliarino San Rossori Massaciuccoli Giovanni Maffei Cardellini in Commissione Ambiente del Consiglio regionale preseduta da Lucia De Robertis. La seduta si è tenuta il 2 di marzo. Mentre parliamo proprio in dati del valore della produzione di 5 milioni di euro che è leggera diminuzione rispetto allo scorso anno tra cui un milione di euro dall'attività commerciale costituita essenzialmente dalla vendita della fauna selvatica o di allevamento del legname e di altri prodotti. Questi sono quindi i dati del bilancio preventivo economico 2020 e la proiezione triennale 2020-2022 del Parco Migliarino San Rossori Massaciuccoli che quindi è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. Ed è stata proprio a illustrare la Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis che ha ricordato come ancora non si sia approvato il bilancio costitutivo però dell'anno precedente ai ritardi dovuti alla pandemia si sono infatti aggiunte anche delle lunghe verifiche fatte dall'Aggiunta regionale sul costo del personale che aveva portato al commissariamento negli anni precedenti. Il bilancio preventivo è stato approvato quindi a maggioranza dal Consiglio regionale. In questi ultimi due anni si è lavorato molto per provare a recuperare del gap che c'era stato anche dal punto di vista degli investimenti. Abbiamo condiviso anche con il Direttore e con il Presidente che su questo rilancio bisogna che la Regione attraverso i suoi componenti nei Consigli lavori attraverso un sistema anche di vigilanza che il Consiglio regionale farà in quei territori e in quelle azioni. Passato il Covid accoglieremo con grande soddisfazione l'invito del Presidente a visitare quei luoghi e a capire come supportare e aiutare. Il momento è di assoluta difficoltà. È evidente che il Parco ha subito dei danni importanti nell'ultimo anno perché non si è mosso nessuno, perché è stato più complicato fare le attività e fare le azioni non solo di promozione ma anche di sistemazione. Quindi usciti dalla pandemia proveremo a far tornare il Parco a quello ruolo centrale di sviluppo non solo della biodiversità piuttosto che di tutto quello che viene fatto all'interno del Parco ma anche un polmone per l'attrazione turistica del territorio. Su questo atto noi abbiamo collegato poi una proposta di risoluzione che è stata approvata all'unanimità che trattava la parte del Parco che riguarda il Lago di Massaciuccoli. Ecco, quella parte lì è l'area umida più grande della Toscana è praticamente tema di discussione all'interno del Consiglio regionale anche della scorsa legislatura. Abbiamo approvato tantissime emozioni che andavano dal recupero delle bilance, dal ricovero dei barchini alla qualità dell'acqua, alla microcistina piuttosto che ai temi che purtroppo ci sono ancora delle bonifiche di alcuni territori visto che in alcune zone abbiamo ancora sedimenti di rifiuti che cadono nell'acqua. Ecco, siccome ci sono tante emozioni approvate e state approvate nei cinque anni precedenti anche portate da me abbiamo chiesto di far venire in commissione i due assessori, Monni e Baccelli per cercare di risolvere quelle problematiche che ormai escono dalla commissione in cui ero proprio con Monni e Baccelli la scorsa legislatura che loro bene conoscono ma che ora agli atti devono seguire anche dei fatti. Nel parco di San Rossore, Migliarino e Massasciuccoli insistono moltissime attività economiche penso all'ippodromo, ai centri visite ma anche ai ristoranti, ostelli e varie altre attività che come tutte le attività scontano la crisi dovuta alla pandemia alla riduzione del 70-80 anche 100% dei guadagni in questo caso la regione toscana può intervenire direttamente senza chiedere ad altri di farlo ovvero riducendo i canoni di concessione o di affitto mi sembrerebbe un'iniziativa semplice scontata ma soprattutto giusta ovvero a fronte di un calo drammatico e importantissimo dei visitatori e quindi dei clienti di ridurre conseguentemente anche i canoni di affitto e di concessione per questo ho presentato un ordine del giorno in questo senso collegato al bilancio del parco di San Rossore, Migliarino e Massasciuccoli un bilancio tra l'altro abbastanza strampalato che fa acqua da tante parti che arriva in grave ritardo mi dispiace molto che la maggioranza abbia votato contro perché si fa con una mano ci si straccia le veste per le attività che sono in crisi si fa appello al governo e ad altri enti che intervengono poi quando può essere la regione intervenire in maniera diretta diminuendo per esempio canoni di affitto e di concessione invece si fa come Ponzo Pilato si ci se ne lava le mani e non si interviene e per questo appuntamento con Dentro il Consiglio è tutto vi ricordo per gli aggiornamenti www.consiglio.regione.toscana.it vi aspetto come sempre qua tra sette giorni Dentro il Consiglio www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.toscana.it